Quest'oggi giocheremo a The Binding of Isaac, ma ogni due minuti ci sarà un effetto randomico che influenzerà la partita, come la rimozione di un oggetto, la creazione di buchi neri o Isaac che spara altri Isaac. E sarà la chat a votare per ciò che accadrà. Il mio obiettivo è quello di sconfiggere almeno un boss finale e vincere una partita. Ce la farò? Oh, e dovremmo finalmente esserci. Perfetto. Potete darmi un oggetto? Attenzione! Iniziamo subito alla grande. Oh no, aspetta. Non avevo visto quell'oggetto. No, raga. No, raga, no, raga, no, raga. Non osate, non osate, non osate, non osate. Vi prego! E niente. Vaffanbrodo a tutti quanti. Il primo oggetto! Ah, e comunque, trasmetto queste e altre challenge divertenti in diretta sia su Twitch che qua su YouTube. Quindi seguitemi su entrambi i social per partecipare a quelle future. Come mi chiamano su... What? È una Twitch stanza! Twitch hearts? Va bene, grazie. Guardate che figo, con i bittini sparo quelle cose lì, che figata! Clicker. Se vorresti cambiare personaggio, avrei iniziato con un altro personaggio, no? Selezionate un evento, ragazzi. Cosa volete far succedere ora? Orca miseria, che odio. Che odio, che odio più profondo. Ehi! Mamma, mega però, non è niente male. Grazie a quelle scritte che vedete lì sotto. Dovete scrivere il numero in chat. Oh mio Dio! Piano, piano, piano. Ah no, sono... Mi sono favorevoli. Grazie. Ma per 60 secondi dura sta cosa? Vabbè, sono rotto così però. Vieni qua. Look mom, like hash. Ho non letto la scritta. Ok, un ottimo tears up. Fantastico. Nuovo evento? Potete darmi un trinket. Ok. Oh fuck, è vero. Mi ero dimenticato di sta cosa. Gabri! E moerisci un po', lurido. Bravissimo. Saltiamo a pieppare il patto col diavolo. Oh, potete darmi una carta. Dovete scrivere questa volta o more o less in chat. Mi avete dato una runa. EIWAS. Ottimo. Con la EIWAS posso... Creare una botolina. Black candle. No. Un tipo per proteggermi dalle lacrime. Va bene. Tanto tutte queste palline che mi dano una mano sono grazie al fatto che ho perso i cuori di Twitch che a quanto pare avevano l'effetto di creare anche altre cose. Va bene. Domino coi fazzoletti. Grazie mille dell'abbonamento. Ben arrivato. E come puoi vedere, ora che ti sei abbonato hai il tuo amichetto qua. Uh. Ottimo Tech.5. Anche chi per skin non era male ma Pikachu è tanta tanta robina. No. Mi potete rimuovere un oggetto. No, raga. Dai. Dai. Non toglietemi il Pikachu. Guardate che carino che sono. con Pikachu. Oh sì, il 50% Sì, bravi, bravi, bravi. Mi state rimuovendo il Marrow. Ah ah. Chat noiosa. Ok, mi avete rimosso il buon Marrow. Fa niente. Eh, fatto con l'angelo di già. No, non ho una bomba. Urn of Souls. Non mi serve neanche. Oppure potrei far esplodere qua tutto. Va bene. No, perché voglio andare a Mega Satana. Alla vostra ci arriverò in qualche modo, dai. Ah, mi avete tolto una chiave. Bastardi. Ah, no. Ok, devo fare tre piani in sette minuti. Sì, ciao. Ah, mai più proprio. No, bombe, no, bombe. Chiave, chiave, chiave. Perfetto. Ehm, direi Scorpio. E andiamo subito al boss. Via, 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 via. Mega Fairy. Mega Dead. Oh, potete scegliere di darmi un nuovo Trinket. Va bene. Mi avete dato l'Uroburro Swarm, ma io l'ho subito switchato. Hihi. Vediamo cosa c'è qua. The Body o Gello? Ok, addio Urn of Souls. Gello. Vieni da me. Ah, tra l'altro, ho ancora il danno di base, ridendo io, scherzando. Cosa mi state dando, amici? L'Angelic Prism addirittura. Wow. Thank you very much. No, ho fatto col diavolo. No, però, eh. Non va bene ho fatto col diavolo. Go, 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 go. Dai che siamo vicini. Ho due minuti, più o meno, per arrivare a mamma, per andare anche alla boss rush. Andiamo muoverci, amici. Cosa c'è qua? Eh, ho quello che non mi avete dato prima voi. Va bene, il Mons for Fume. Select an event. Ragazzi, scrivete uno, due o tre in chat per selezionare un evento. Non so cosa siano. Intanto, ho solo un minuto per fare mamma, ma almeno abbiamo visto più o meno tutto quello che ci importava di vedere nel piano. Ok. Vieni, mamma. Oh, ragazzi. La boss rush col Gello. Ora ho realizzato. Sarà una cagata allucinante fare la boss rush col Gello. Creep Orpora, grazie mille dell'abbonamento. E ora dovresti comparire con noi. Esatto, eccoti qua. Andiamo. Oh, fuck. Ho appena visto Ipecac for All. No! No, 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 no. Corri, corri, corri. No, che se non riesco a predecipare alla boss rush. Ho sette secondi, non ce la faccio. Ma che fastidio. Grazie al cacchio di Curse Die che mi avete dato voi. Five Spaces, Inverse o Interstellar. Ok, la gente è curiosa a vedere cos'è Interstellar e sinceramente lo sono anche io. Uh, qua c'è una Mega Chest. Attenzione. Con la Skeleton Key, a posto. Così per forza mi si apre. Ok, Boil Baby. Vabbè, niente di che, purtroppo. Wow! Wow, 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 wow. What the fuck? No! No, 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 no. No, dura per 60 secondi sta roba? E niente, aspettiamo qua, ragazzi. Oh no! Un altro evento! Oh, cosa succede ora? New Dynamic? What? What? Oh no, la gravità che... Oh, Cristo! No, mi attira da una parte o dall'altra della stanza. È terribile sta cosa. Esci! Cutta! Brutto editor! Muori! Non è vero, non sei un brutto editor. Però in questo momento... Ti voglio morto! Sì, fatto con l'angelo, meno male! In questo momento non sono abbastanza forte. Senza algello. No! No, di nuovo! E adesso non ho il pezzo di chiave. Raga, vi prego, datemi il pezzo di chiave. Mi serve. Che culo! Ah no! Così me lo rimuovete! No, scherzavo! No, 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 no! Non rimuovetemi il pezzo di chiave! Se no, non andiamo a Mega Satana! Che cazzo di casino! Cambiate voto! Mi avete rimosso la chiave. Io troverò il modo di entrare comunque a Mega Satana. State a vedere. Wow! Abbiamo PogChamp. Ok, due cuoricini di Twitch. Grazie. Io ho sinceramente paura della supernova, sapete? Vediamo di... Non... Esagerare con la supernova, ecco. Mi avete tolto tutta la vita! No, sti qua non... Sti qua non aprono mai più la bocca. Che cazzo posso fare? E... Hash mi sa che è andato a fan brodo. Oh! Cristo! Devo uscire dalla stanza! Ho perso la possibilità di fare Hash! No! Non è vero! Però devo tenermi il Crooked Penny! E mi ha proprio sparato un botto col diavolo! Uè! Buono. Ottimo la botolina. Proviamo a fare il suo bastardo. Ovviamente se prendiamo danni intanto che ci carichiamo, vendiamo teletrasportati fuori perché abbiamo sempre la... 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 la cosa. Cosa mi avete rimosso? Mi avete rimosso il Pointy Rib! Ma che bastardi! Oh no! Non di nuovo Interstellar! Non di nuovo... Spero che faccia male anche al bastardo, no? Interstellar. Non solo a me. A lui non fa danno! Tutte le sue lacrime vengono teletrasportate verso il buco nero. Ok. Va bene, dai! Muori! Ti prego, muori! Dai! 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 Sì! Grazie! Grazie, grazie! Empty Vessel. Very nice! Andiamo verso l'alto intanto. Ok, dovete selezionare un oggetto da rimuovermi. Non siate cattivi, vi prego. Così, contro Isaac, subito! Ale! Ti prego, non farmi male! Dai, il Broken Stopwatch mi sta aiutando in realtà un bel po', eh! Rimuovermelo... Porca Eva. Rimuovermelo è veramente una bastardata. Luca! Ma grazie mille! Un bacione grande, grande, grande come una casa. Ed ecco ti qua, guarda, comparso vicino a me. Oh mio Dio, mi potete dare un oggetto. Lucario, ovvero Cricket's Head. Il manto dei miracoli, ovvero il Cerimonial Roves. Chat, mi fido di voi. Non vorrete mica negare la mascotte del canale di essere la mascotte del canale, vero? Eh sì, direi che mi servirebbe proprio molto. Lucario, grazie. Mi serviva tutto quel danno, ma veramente tutto. Mori, mori, mori! Ok, morto tizio a caso, meno male. Lazarus Rags, wow, che gran bel unlock. Il 90% di voi mi ha detto che devo provare a duplicare queste ceste. E va bene, facciamolo. Mi fate veramente venire fuori i Russian Hackers di nuovo? Cosa succede ai miei consumabili ora? Wow, guardateli! Oddio, mi arrivano a zero? Mi hanno tolto 90 chiavi. Proviamo a duplicare queste ceste. Sì! Yes! Ok! No? Va bene? Eh! Buono! Oh no! Che evento ora potete votare? No, ma come Kill Player? Oh! Proveremo l'opzione 2, mi sa. I mean Kill Player. Oddio, grazie! Oh Cristo! Mi volevate uccidere! Yeah, piano! Ok. Fuck. Bladestorm? Oh, Gesù Cristo. Perché tanti stanno votando per la tempesta di lame. Ho paura della tempesta di lame io. Blue Baby, se ti va di spawnarmi il portale per Delirium, a me non dispiace, sai. Bug. Fai bravo. Dai, sei molto simpatico, tu sei molto, sei molto bravo. Dai, portale per Delirium, ti prego, ti prego, ti prego. Ti prego! No. Oddio, ma le lame mi fanno male. Oddio, sì che mi fanno male, aiuto! Vabbè, almeno abbiamo fatto qualcosina, dai. Prima run finita. Pronti per il secondo round? Spaisiamo un po' le cose? No, non è troppo. Io mi fido di voi. Yo! Mi è iniziato la partita con Dark Matter! Scarichi. Dovete essere buoni, eh. Quando siamo contented lost, dovete essere buoni, amici della chat. Oh, wow! Ok. Sicuramente un buono start. Devo entrare anche io in modalità Tainted Lost. Devo switchare in modalità Tainted Lost. Vai. No, 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 no! No, 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 no! Mi giuro che ho preso la paura! No, dai, non posso fare un'altra stanza io così. Ok. Ma dura per sempre? Perché non mi si sta rigirando lo schermo? Ok. No, aspetta! È girato al contrario adesso! Oh, Cristo. Mi piace questa cosa. Quanto dura! Perché? Non smette. Lontanati da me. Mi hai aiutato due bombe, grazie. Oddio! Si è sistemato! Babi Plum? Potrò mica fare male a Babi Plum, Mr. Krablet? Come mi sentirei se facessi male a Babi Plum, Mr. Krablet? Ah? Ciao, Babi Plum! Un po' di velocità. Va bene. Due oggetti tanto buoni. Sia la Bambi Card che la Black Candle. Sapete cosa? Per ora mi tengo la Black Candle. Mamma mia! Mamma mia! Ragazzi, scegliete voi che oggetto darmi. Tra le Balls, Libra, o le mod di Twitch che non ho idea di cosa faccia. Mi state veramente dato le Balls, amici? Ma grazie! Thank you for the Balls! Bam! Un bel proprio di danno e di tutto. Adesso stiamo qua, finché non viene fuori un evento che mi dà monete e voi mi spammate monete tante che metà basta. È chiaro? Dammi una moneta. No! Ma dai! Ma che brutta scelta! Magari poterla giocare questa. Mi avete tolto le Balls! Siete dei screanzati. Sapete cosa? Non vi è meritato la rambella. Andiamo a... Satare delle Mbe, basta. Oh! Un'altra Olicard, almeno quello. Direi che questa non è niente male. Golden Kappa? Che cacchio fa il Golden Kappa? Ah, ho le bombe e le chiavi dorate. Per sempre? Crablet! Hai le ossa grosse qua. Perfection? Ah, shit. Non è male Perfection. Andiamo a rerollare ancora una volta l'oggetto qua dentro. Speriamo in qualcosa di buono. E dopo proseguiamo, giuro. Beh! E ora vediamo se effettivamente il Golden Kappa mi fa avere sempre tutto dorato, oppure se era solo per quel piano. No, era solo per quel piano, ok. Ale, non avvicinarti, ti prego. Bravo, Ale. Fuck! Madonna santa, che paura. No! Mori, 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 mori. Ok, grazie. Ok. Una chiave dorata comunque l'ho trovata, va bene. Ho usato per sbaglio la Olicard. Che fastidio. Uh, buono School Bag. Che fastidio. Buono! No, al Birthright. Al Birthright, ragazzi, mi dà un respawn. La Soul of Teddy mi dà un altro reroll. Uh! Che begli oggetti che sto trovando intanto. Attacco on Titan? No, raga, arriva il Ramblings e mi dà attacco on Titan. Oh, Cristo. Cosa succede ora? Oddio, lì mi ci sono enormi. Aiuto! No, Cristo. Via, via, via. Via, via, via. Statemi lontani, statemi lontani, statemi lontani. No! Muori, muori, muori! Ma anche il boss immenso adesso? Ah... No! No, 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 no. No, 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 no. Non mi lasciare. Regmega, io ti amo. Afferra la mia mano. No, 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 no. Date via pallina, date via palline. Palline, date via. Palline, palline, date via. No! Super evviva Chiamerei Schiliscio ma ti abbiamo dato noi le penitenze E infatti Jacopollo infatti Se non ho carte ora per favore Beh forte son forte eh No Non va bene quella carta lì Poi ha anche oggetti che sto trovando Ah potete scegliere se rimuovermi gli occhiali Il D6 oppure il coso batteria Vedete voi se questa rama volete che finisca ora Oppure no Pop pop Via Roba brutta 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 eh Mi avete tolto Charge Baby grazie amici Madonna santa Stavo per esplodere con quei stupidi blocchetti Dammi una Holy Card Una Rules Card Potevo usarla solo Teddy forse Ah ok pensavo la facesse tutta Oddio ma sparo Isaac Adesso ho notato che sto sparando Isaac Perché c'è un Isaac lì in mezzo? Holy shit È tutto Isaac È un Isaac che non despona più? Sa che devo riuscire ad entrare dalla stanza Non ho bombe Eeeeeeeh Mi tocca sponarmi una bomba sì Scusate Ok Come cheating zio Letteralmente non sarei più potuto andare avanti con la run Teddy Vieni qua Abbiamo anche con Joined ora Sparo tante di quelle lacrime che metta basta Oddio super hot No Cosa viene fuori con super hot Ma dammi una Holy Card Gioco Te lo chiedi un ginocchio Quando mi muove i nemici si muovono Che figata Mi sa che mamma non è Congratulazioni chat Siete riusciti a distruggere una run Con Twisted Pear Spoon Bender Con Joined Twenty Twenty Complimenti